Entrare in un caseificio per raccogliere lo scarto dell'allaborazione del latte che tre biotecnologhe trasformano in lieviti e proteine. Siamo a Rutigliano vicino Bari e loro sono Rosita, Erika e Maria, tre vite che si sono intrecciate grazie agli studi e al siero di latte. Rifiuto altamente inquinante se sversato illegalmente e costoso da smaltire per i caseifici. O lì hai degli allevamenti dove puoi smaltire il siero o ti devi avalire di aziende che lo smaltiscono, che lo depurano. Per me è veramente una risorsa, sono felice di tutti questi esperimenti, veramente. Perché hanno ridato dignità al siero. Quello che in realtà rappresenta uno scarto, tra l'altro uno scarto inquinante, per noi diventa risorsa, entra all'interno del nostro processo e viene convertito in prodotti ad alto valore aggiunto. Una volta imbottigliato il siero viene portato in un laboratorio dell'Università di Bari e depurato. Si ottengono così proteine liofilizzate, utili a farne integratori per gli sportivi e un liquido giallastro che, fermentato, diventa lievito per pane, birra e vino. Questo lievito è il lievito classico per panificazione e noi abbiamo in particolare fatto la focaccia tipica barese ed è un prodotto alla pari di quello attualmente sul mercato e presto verrà fatto un test appunto per testarlo nei panifici. Che cosa vi serve adesso? Sicuramente è una partnership commerciale o di tipo finanziario. Se questo non devesse succedere, il rischio qual è? Il rischio è che questa tecnologia possa non trovare un'industrializzazione, quindi una concretizzazione su larga scala. Grazie.